Eccoci, buonasera, partiremo con il nostro telegiornale dalla giornata di guerra tra Israele e palestinesi di Gaza. È stata una giornata segnata da una serie di episodi da una parte e dall'altra, con conseguenzialità che ovviamente vengono rimpallate nelle accuse tra la striscia di Gaza e Gerusalemme. In verità abbiamo visto appunto azioni di guerra e azioni di lancio di razzi e c'è una conseguenzialità cronologica che vi racconteremo nel nostro servizio su quanto è avvenuto. Quello che è sicuro è che l'aviazione israeliana ha abbattuto un altro palazzo importante di Gaza dove ci sarebbero anche sia presenze di uffici dei servizi dei palestinesi, soprattutto di Hamas e della jihad islamica e anche dei centri media. La risposta è stata immediata ed è stata la stessa di ieri da parte di Hamas, il lancio di 130 razzi verso la zona centrale di Israele. Una situazione difficile, è chiaro, è evidente che un conto sono gli attacchi mirati e un conto sono gli attacchi alla cieca, tra l'altro anche in zone fortemente abitate, ma è vero anche che il bilancio di sangue è molto più pesante per quello che si sa fino a ora dalla parte palestinese che da quella israeliana. Israele però ha il sostegno maggiore della comunità internazionale e anche della politica italiana. come si è visto proprio fino a pochi minuti fa nella veglia, nella zona del ghetto ebraico di Roma in cui i rappresentanti di praticamente tutti i grandi partiti erano presenti a testimoniare la loro solidarietà con Israele. Ma come vedremo ci sono altri fatti, a cominciare dal question time in cui ha parlato Draghi, delle riaperture e ha fatto capire che non devia dalla linea della gradualità e della cautela, ma ha parlato anche della questione, l'altra questione che si è tornata a fare calda, quella dei migranti. L'Italia, dice Draghi, non lascerà nessuno da solo nel sud del Mediterraneo e comunque si cerca la strada del difficile ricollocamento all'interno dell'Unione Europea di tutti quelli che saranno accettati, anche se ci saranno anche dei rimpatri di coloro che non hanno diritto ad arrivare, ha detto Draghi. Vedremo che cosa vorrà dire. In una giornata in cui però, ovviamente, la linea che si è fatta più cauta del governo si scontra con la richiesta delle regioni, allora, di riconsiderare il meccanismo che emette automaticamente di un colore diverso ciascuna regione a seconda dell'andamento, stando ad alcuni parametri, tra cui quello che viene ormai ripudiato l'RT. Allora, in disaccordo con il Comitato Tecnico Scientifico, le regioni chiedono dei cambiamenti anche perché alcune di loro, col meccanismo, chiamiamolo attuale, per non dire vecchio, rischerebbero di andare in arancione alla fine di questa settimana. Ma come vedremo dai dati di oggi, dai dati sulle vaccinazioni, che hanno raggiunto quota 25 milioni, la situazione resta stabile. E' stabile purtroppo anche il numero dei decelsi che non viene abbattuto da quello che accade in questi giorni e queste settimane. Ma vedremo anche che a livello europeo si stima per l'Italia una crescita sopra il 4%, sia quest'anno che il prossimo. Quando, se le cose andranno così, ci sarà la possibilità... Vedete, andiamo su Gerusalemme, su Tel Aviv, penso sia. Vediamo ancora la situazione, è quella che abbiamo visto ieri, si è vista una palla di fuoco sullo sfondo della città israeliana. Vi devo ancora dire però che ospiteremo un'esclusiva, perché abbiamo intervistato Davide Casaleggio sulla situazione, il rapporto tra Rousseau e il Movimento 5 Stelle, con un giudizio che farà rumore sul colui che è il nuovo leader, l'impectore del Movimento, Giuseppe Conte. 30 secondi, i titoli. Prosegue l'escalation di violenza in Medio Oriente, i numeri sono quelli di una guerra che ha provocato fino a questo momento 56 morti palestinesi e 6 israeliani, oltre 1000 razzi sparati da ieri su Israele, che però continua i suoi bombardamenti mirati, almeno nelle intenzioni, è stato abbattuto nel centro di Gaza uno dei più importanti palazzi del potere palestinese. A Roma c'è stata una veglia di solidarietà con Israele, con praticamente i rappresentanti di tutti i partiti italiani, con tra l'altro Letta, Salvini, Tagliani. Nel primo question time alla Camera Draghi detta la linea del Governo sui temi caldi che dividono la maggioranza. Sulla pandemia l'approccio alle riaperture sarà graduale e le decisioni saranno prese in base all'andamento epidemiologico. Dice il Premier che invita la pazienza, chi ha dovuto rimandare il matrimonio. Sui migranti si punta gli accordi con i paesi di provenienza e con l'Europa per i ricollocamenti. Nessuno sarà lasciato solo in acque italiane. Pressioni delle regioni sul Governo per rivedere i parametri della pandemia. Nel vertice di stamane la richiesta è stata quella di chiudere l'era dell'R con T e semplificare gli indicatori per determinare i colori delle regioni, anche perché altrimenti c'è chi potrebbe tornare in arancione. Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, chiede addirittura di superare la divisione in zone. Oggi i casi in dieve aumentano, quasi 9.262 le vittime, ma la curva continua a scendere. Grazie alla campagna di vaccinazione e al recovery plan, l'Europa può ora prevedere un rilancio dell'economia superiore alle aspettative. Prevediamo una forte crescita sia quest'anno che nel prossimo, ha detto il Commissario europeo agli affari economici Gentiloni. Previsioni incoraggianti anche per l'Italia, per il nostro Paese. La ripresa si può rivelare una grande occasione, ha detto Gentiloni. Nel 2022 recupereremo il livello precedente all'esplosione della pandemia. Nell'intervista al nostro Tg Davide Casaleggio lascia emergere la diffidenza nei confronti di Conte. Sarà il leader dei 5 Stelle? Fino a ora fatto solo da mediatore. Non si è mai intestato alcuna battaglia politica? Vediamo quali sono le sue proposte e se è il caso di condividerle. Dice Freddo, il capo dell'Associazione Rousseau, che sulla cessione delle liste degli iscritti apre solo al curatore nominato dal Tribunale di Cagliari. Buonasera, questa sera apriamo il telegiornale su quello che succede sulla scena medio orientale. Sapete benissimo che da alcuni giorni è in corso una vera e propria guerra, anche se non dichiarata. Andiamo con le immagini adesso a Gaza e qui vediamo ancora come ci siano i traccianti di una situazione che resta di grande tensione e di pericolosità, perché proprio nella striscia di Gaza è avvenuta l'azione oggi, la vedremo poi nel nostro servizio, più grave dal punto di vista dell'importanza strategica. E' stato colpito dai jet dell'aviazione israeliana, un palazzo che ospita molti dei centri di potere delle forze palestinesi. E da quell'episodio scaturisce una risposta durissima da parte proprio di Hamas, che ha come ieri lanciato in segno di ritorsione 130 razzi verso il territorio centrale di Israele. Vediamo i fatti. I numeri sono quelli di una guerra come non si vedeva in Medio Oriente dal 2014. Sin dalle prime luci dell'alba Hamas e la Jihad Islamica hanno ripreso a colpire, lanciando 15 razzi in direzione di Dimona, dove c'è un sito nucleare israeliano, ma anche verso Berceva nel Negev. Gerusalemme ha risposto colpendo quelli che ha definito obiettivi militari, infrastrutture e catene di comando di Hamas e della Jihad Islamica. L'ultimo è un palazzo di 10 piani al centro di Gaza City, sede secondo Israele dell'intelligenza di Hamas. Immediata la ritorsione di Hamas, 130 razzi poco più di un'ora fa, con le sirene che hanno suonato a Tel Aviv. Un bambino di sei anni ucciso nel sud a Sderot, colpita anche una casa ad Ashkelon, non è chiaro al momento con quali conseguenze. Difficile fare ora un bilancio delle vittime, ci sono almeno 53 morti tra i palestinesi e una quindicina, tra donne e bambini. Prima della vittima di questa sera, invece in Israele dai missili provenienti da Gaza, erano stati uccisi un soldato colpito sulla sua jeep ed una coppia a bordo di un'auto a Lod, cittadina a destra di Tel Aviv, dove da ieri per tutta la notte ci sono stati scontri con edifici dati alle fiamme e incluso una sinagoga. Il governo israeliano ha usato la mano pesante, restando più di 150 persone ed imponendo per oggi il coprifuoco. In giornata la riunione dell'esecutivo israeliano si è tenuta in un bunker, le dichiarazioni che ne sono uscite sono improntate più che alla distensione all'escalation. Questo è solo un inizio, ha avvertito il primo ministro Netanyahu, al quale ha fatto eco il ministro della difesa Gans, secondo il quale l'operazione è appena partita e non verrà terminata fino a che non sarà riportata la quiete al momento in corso la riunione del Consiglio di Difesa. Se Israele vuole intensificare, noi siamo pronti, ha risposto il leader di Hamas, Ismail Anieh, che però ha dovuto ammettere il duro scotto pagato dalla sua organizzazione. In un'operazione di Israele coordinata con i servizi segreti sono stati uccisi diversi esponenti della catena militare di comando palestinese. Gerusalemme ha deciso anche di chiudere le scuole nel centro-sud per una settimana e concedere l'apertura ad uffici e negozi, solo se vicini ad un bunker. Davanti a una simile violenza la diplomazia arranca, la crisi verrà presto discussa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Casa Bianca fa sentire la propria vicinanza ad Israele annunciando la nomina del prossimo ambasciatore, ma chiede a Netanyahu di evitare vittime civili. Parallelamente il segretario di Stato Blinken manda in Medio Oriente il suo inviato per lavorare ad un cessate il fuoco che secondo Mosca i palestinesi potrebbero accettare. Mentre l'Unione Europea con l'alto commissario Borrell lascia intravedere un filo di speranza tra le parti, ha detto Borrell, ci sono contatti per fermare l'escalation. Ci sono forse contatti, come dice l'esponente dell'Unione Europea, per fermare il conflitto, ma non si vede in questo momento nessuna volontà da una parte all'altra. E' essenziale per l'ala militare dei palestinesi, di Hamas, soprattutto riprendere il controllo del movimento. E dall'altra parte c'è, va detta con altrettanta franchezza, la stessa determinazione da parte di Netanyahu che è a un passo dal dover cedere il governo del Paese e che si trova in questa situazione, in una situazione di eccezionalità, a fronteggiare appunto una guerra e forse anche a non evitarla e così in qualche modo anche da ottenere un mantenimento per chissà quanto del proprio potere. C'è tutto questo, ma c'è davanti a tutti anche evidentemente la necessità di prendere parte secondo quelle che sono le libere determinazioni delle forze politiche anche in Italia, che si sono concretizzate in una partecipazione massiccia alla veglia di preghiera della comunità ebraica di Roma. Ci sono i rappresentanti di quasi tutti i partiti alla veglia organizzata a Roma dalla comunità ebraica in solidarietà con Israele. Tante le bandiere tra i primi ad arrivare il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Era una fase nella quale qualcosa stava succedendo di positivo ed è evidente che il radicalismo sta cercando di interrompere e di impedire ciò che di positivo stava succedendo. Come gli altri ospiti politici, anche il segretario del PD salirà sul palco per un breve intervento, diverse le sfumature. Per Antonio Tajani, che se la prende anche con il presidente turco Erdogan, per la sua posizione ambigua la responsabilità di quello che è successo cade solo su Hamas. Gli accordi di Abramo avevano fatto compiere un grande salto in avanti in quella parte di mondo così martoriata, ma quando si fa un salto in avanti c'è sempre qualcuno che vuole far fare un salto indietro. Hamas sta facendo un'operazione inaccettabile. Tajani si riferisce agli accordi di Abramo sottoscritti da Israele con gli Emirati Arabi lo scorso anno. Attaccato sui social per aver preso le parti di Israele, Matteo Salvini ribadisce che non ci sono dubbi. Quindi sempre e comunque con Israele, che è una democrazia e un avamposto di civiltà. Tutte le forze politiche siano concordi e dimostrino la solidarietà verso un popolo che è da tanto tempo costretto a combattere per la difesa della propria terra. Per Italia Viva e Movimento 5 Stelle la priorità è lo stop al conflitto. Cercare davvero di tornare su un percorso di dialogo condannando fermamente ogni forma di terrorismo. Indubbiamente è la posizione che dobbiamo tenere tutti. Ci vuole un'assoluta determinazione nel capire che tutte le azioni di guerra fanno male a tutti. A un lato e all'altro. Fortemente simbolico il luogo scelto per la veglia. Il palco viene allestito nella piazza che ricorda Stefano Gaitaschè, il piccolo di due anni vittima dell'attacco terroristico alla Sinagoga di Roma nell'ottobre del 1982. Durante i primi interventi in sottofondo parte una sirena e l'allarme risuonato più di mille volte nelle ultime ore in tutte le città di Israele, dicono dal palco. Torneremo durante il telegiornale se ci saranno novità ad aggiornarvi su questa vera e propria guerra. Ma bisogna parlare adesso del fronte interno e di un altro conflitto, quello contro la pandemia. C'era attesa per il primo intervento di risposta a un question time di Draghi, non per il fatto in sé che il Premier parli al question time, perché c'erano risposte attese soprattutto sulla questione della riapertura, ma anche sulla situazione dei migranti. Come sapete è l'altra vicenda che sta riesplodendo in questa fase. Dopo aver frenato ieri la fuga in avanti dei partiti della sua maggioranza, impegnati a farsi sgambetti reciproci nella fretta di intestarsi le riaperture, Mario Draghi torna ad indicare la sua stella polare. Ci vuole prudenza. Le ragioni dell'economia devono essere contemperate con quelle della salute. Nel primo question time del Premier alla Camera, del resto, i partiti non rinunciano al tentativo di mettere bandierine sul calendario. Forse Italia chiede di anticipare le aperture del settore matrimoni in crisi. Da qui parte Draghi per rimarcare la sua roadmap. I matrimoni sono un'occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi il governo intende adottare un approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale. Ragionamento che ricade sul tema più caldo di questi giorni, il coprifuoco. Non ci sarà nessun anticipo a questa settimana. Se ne parla lunedì a tre settimane dalle prime riaperture per capire se ci sono conseguenze tenendo conto dei dati, fa sapere. Difficile insomma che ci sia un liberi tutti invocato in primis da Salvini e sul quale ieri è partita una rincorsa tra i partner di maggioranza. Con tanto di mozione del centrodestra di governo per superare il coprifuoco che verrà votata domani in Senato. Probabile la concessione di uno spostamento alle 23, forse alle 24, non di più. Draghi chiede gradualità perché le aperture siano poi definitive e consapevole dell'urgenza di far ripartire il paese. Lavoriamo per riportare al più presso il turismo in Italia, nostro e straniero, dice rispondendo al PD. Riaprire presto in sicurezza anche grazie ai fondi del recovery. Ma c'è un dossier che più di altri agita le acque nella sua maggioranza con la Lega pronta a farne il nuovo terreno di scontro e distingo con gli alleati, i migranti. Draghi parte dalla constatazione che la pandemia ha peggiorato le condizioni in Africa, aumentando i flussi, fenomeno che in vista dell'estate va regolato. La politica sull'immigrazione del governo vuole, come ho avuto occasione di affermare in altra circostanza, vuole essere equilibrata, efficace ed umana. Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane. Chi non ha diritto a rimanere, aggiunge, sarà rimpatriato due le direttive sulle quali il governo intende procedere. Accordi con i paesi di provenienza per bloccare i flussi è la più ambiziosa, intese con l'Europa, perché si torni ad una redistribuzione credibile dei migranti approdati in Italia. Europa, chiamata in causa anche sulle regole del patto di stabilità, erano, dice Draghi, e sono inadeguate. Prima di vedere quello che succede nel rapporto difficile tra le regioni e questo rallentamento delle aperture, le regioni, fra l'altro, lo sentiremo tra poco, chiedono la modifica sostanziale del meccanismo automatico sulla colorazione giallo, arancione, rosso, anche perché c'è chi rischia, nonostante tutto, di trovarsi con un colore più aspro, diciamo, all'inizio della prossima settimana. Ma prima di vedere tutto questo, vi voglio dare una notizia che è importante, importante per il paese e importante per molti aspetti, perché il governo ha nominato nuovo capo dei nostri servizi segreti interni per la prima volta una donna, una dirigente importante del nostro paese, perché si tratta di Elisabetta Belloni, che è stata fin qui segretario generale del nostro Ministero degli Esteri, lo era da cinque anni, ed è una figura che si è fatta ben conoscere e rispettare per la sua autorevolezza, ma è la prima volta che si sceglie una donna per la guida del DISS, il Dipartimento della Sicurezza Interna, di fatto, del nostro paese. Questa, ovviamente, è una notizia che è stata salutata con favore un po' da tutte le forze politiche. Ma andiamo a vedere allora la questione delle regioni. Rivedere e semplificare i parametri che stabiliscono colori e chiusure nelle regioni. È netta la richiesta dei governatori all'esecutivo nel vertice di questa mattina, quello che segue il rinvio a lunedì di ogni discussione ufficiale sulle possibili riaperture. I governatori chiedono un cambio netto. Basta con l'RT che determina in automatico quali regioni debbano andare in rosso, arancione o giallo. Basta con i 21 parametri per stabilire il criterio di rischio. E chiedono che indicare da qui in poi chi dovrà andare nel livello alto, medio o basso, dovrà abbastare l'incidenza e la pressione sugli ospedali. Due soli indicatori per rendere più comprensibili e prevedibili le scelte di chiudere o riaprire. Richieste che sarebbero però solo il preludio a una proposta più netta, già fatta dal Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga. Se la situazione pandemica del Paese lo permetterà, sarebbe da superare la divisione in zone. Ma se lo smantellamento dell'intero impianto delle misure anti-Covid messo a punto nella seconda ondata della pandemia, le Regioni di colore diverso in base al livello di rischio è quantomeno prematuro. Sulla semplificazione dei parametri, il Governo appare più che possibilista. Se venissero accolte le richieste delle Regioni, oltre al tasso di occupazione dei posti letto a determinare chi dovrà chiudere cosa, contribuirà in maniera determinante il dato sui casi per 100.000 abitanti su base settimanale. La zona rossa scatterà soltanto se ci sono oltre 250 positivi ogni sette giorni, ma con un numero minimo di esami effettuati. Insomma, l'accordo sui nuovi parametri sembra vicino. Ma il tema appena accenato oggi in conferenza Stato-Regioni è che resta il vero nodo cruciale della discussione, quello delle riaperture. I governatori premono per posticipare almeno alle 23 il coprifuoco e chiedono che si possa almeno discutere delle ripartenze dei ristoranti e debbare al chiuso della ripresa dei matrimoni del Via Libera ai centri commerciali nei weekend. Le risposte non dovrebbero arrivare però prima della prossima settimana, ma già da domani si comincerà a discutere di quali regioni dovranno cambiare colore. Al momento solo Sardegna, Sicilia e Val d'Aosta sono in arancione, il resto d'Italia è in zona gialla. Se non dovessero essere rivisti i parametri in base all'ultima rilevazione dell'RT, sono molte le regioni che rischiano di vedere aumentare il proprio livello di rischio. E poi ci sono, come ogni giorno, i dati sui vaccini. Dati che sono confortanti perché abbiamo superato la soglia dei 25 milioni di dosi somministrate. Più cautela per la discesa invece dei casi giornaliere e degli altri indicatori. Nonostante il lieve aumento giornaliero dei casi, prosegue la lenta flessione della curva epidemiologica su base settimanale. Anche grazie all'andamento della campagna di vaccinazione che si allarga agli over 40. Da lunedì aperte le prenotazioni a partire dai nati del 1972. In 24 ore i positivi al Covid-19 sono aumentati di circa 900 unità, arrivando a sfiorare quota 7.900 a fronte di oltre 306.000 tamponi processati, 20.316 più di ieri. Il tasso di positività è del 2,5%. Rimane ancora alto il numero delle vittime, 262 contro 251 di martedì. Rispetto ad una settimana fa i contagi sono decisamente diminuiti, quasi 3.000 casi in meno a fronte di circa 330.000 test. Il 5 maggio il tasso di positività era ancora oltre il 3%. Il numero delle vittime però era all'incirca lo stesso, 267. In sette giorni le terapie intensive hanno visto il netto calo dei pazienti, 2.368 contro i 1.992 attuali. Il saldo quotidiano segna meno 64 per i pazienti più gravi, mentre nei reparti ordinari i ricoverati sono 657 meno di ieri. Le vaccinazioni oggi hanno superato quota 25 milioni per la prima dose, mentre sono circa 7.800.000 le persone che hanno completato il ciclo con il richiamo, pari al 13% della popolazione. E da lunedì 17 maggio dunque inizieranno le prenotazioni per gli over 40. Il commissario straordinario Figliuolo ha inviato una lettera ai presidenti di regione autorizzando l'allargamento della campagna vaccinale a tutti i nati dal 1972 al 1981. La struttura commissariale ha anche annunciato che da stamattina a sabato complessivamente arriveranno altre 3 milioni di dosi di vaccino. Intanto l'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, conferma che la possibilità di ritardare fino a 42 giorni il richiamo per Pfizer è già previsto nei test clinici. E sempre rispetto al vaccino americano potrebbe cambiare a breve anche la modalità di conservazione. Una volta scongelato il vaccino potrebbe essere conservato in un normale frigo per un mese. Stiamo lavorando per formulazioni più maneggevoli, annuncia la multinazionale del farmaco. E forse già a fine mese potrebbe arrivare l'ok dell'EMA per estendere la vaccinazione ai giovanissimi tra i 12 ed i 15 anni. Questa situazione dei vaccini, questo salto in avanti che sta compiendo tutta l'Europa dà la possibilità alle figure chiave della Commissione Europea di sfornare delle previsioni e delle stime molto più favorevoli su quello che sta per succedere dal punto di vista del rimbalzo economico, della crescita dopo l'anno terribile che abbiamo passato. E così si può pensare, ottimisticamente ma non senza ragione, che alla fine dell'anno prossimo l'Italia sarà tornata almeno sul livello del pre-pandemia. Saranno i vaccini e i recovery plan a portarci fuori da questa lunga crisi già dal prossimo anno. Le previsioni di primavera della Commissione Europea portano numeri positivi con stime, riviste a rialzo rispetto a febbraio e un ottimismo che a Bruxelles non si vedeva da tempo. Il 2022, quindi prima del previsto, porterà espansione ai livelli economici pre-pandemici per l'Eurozona e anche per l'Italia. Il PIL aumenterà del 4,2% quest'anno e del 4,4% il prossimo. Recupererà quindi il tracollo registrato nel pieno dell'emergenza sanitaria con chiusure totali o parziali annesse. Anche il rapporto debito pubblico-PIL continuerà a salire nel 2021 fino a sfiorare il 160%, ma poi comincerà a scendere. La più grossa spinta la daranno ovviamente i soldi che arriveranno dall'Europa con una prima tranche in arrivo già a luglio per la realizzazione delle opere e dei progetti, con l'attenzione che deve però restare sempre alta. Io direi che la sfida principale sarà nei prossimi mesi e forse nei prossimi anni per un Paese come l'Italia quella dell'attuazione dei programmi di riforme e di investimento. Solo l'attuazione di un piano di questa ambizione può contribuire a rendere questa crescita anche più prolungata e duratura. Mettere i programmi in attuazione quindi per uscire da questa lunga bassa crescita ormai lo abbiamo capito, la mostruosa macchina che si deve mettere in moto è qualcosa di irripetibile, ma la crescita deve essere duratura anche perché il patto di stabilità è sospeso fino al 2022, ma non lo sarà per sempre, quindi bisogna essere rapidi. Oggi è stato anche il presidente di Confindustria Bonomi a ribadire che il recovery plan è sicuramente un'opportunità per ripartire, ma bisogna poter contare su processi autorizzativi, semplici e veloci. A questo dovrebbe pensare anche la task force istituita presso il Ministero dell'Economia che dovrà identificare i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi. I numeri dicono che le cose stanno già cambiando in Italia. Il rapporto dell'autorità anticorruzione mostra come negli ultimi anni, con l'attuazione del codice degli appalti, la media annuale dei tempi di affidamento dei lavori è passata da 358 a 209 giorni e i bandi delle opere pubbliche sono cresciuti del 143%. La politica. Questa sera vi proponiamo un'intervista a Davide Casaleggio, figura chiave, come si sa, a seconda dei punti di vista, nello sviluppo oppure nel freno rispetto al nuovo Movimento 5 Stelle che sta nascendo. La crisi dei 5 Stelle è vista da Davide Casaleggio. Ai nostri microfoni la diffidenza del capo dell'Associazione Rousseau verso chi si appresta a prendere le redini è evidente. In quali battaglie si riconosce tra quelle portate avanti da Conte a capo del Movimento? Fino adesso Conte, in qualità di Primo Ministro, alla fine ha fatto da mediatore tra diverse forze politiche. Non penso si sia mai intestato nessuna battaglia politica personalmente, neanche fosse del Movimento, della Lega o del PD. Vedremo quali sono le sue proposte e da lì potrò capire se condividerle. Il figlio del fondatore non è oggi né un demolitore né arroccato sui no, ma è chiaro che vuole andare a vedere le carte degli avversari. Così il muro alla richiesta avanzata da Giuseppe Conte e dal reggente Crimi sulla cessione degli iscritti si trasforma ora in una cauta apertura a quel rappresentante legale nominato dal Tribunale di Cagliari che ha presentato richiesta a Rousseau per avere la lista e far votare come da statuto l'organo collegiale. Dobbiamo capire quali sono i suoi poteri e adesso approfondiremo questa questione. La proprietà dei dati è sempre in carico al singolo iscritto, per cui sono i singoli iscritti che devono essere poi coinvolti e con il loro consenso si farà quello che è necessario fare. Sareste disposti anche a far votare l'organo collegiale? Approfiniremo tutte le richieste. Ovviamente noi siamo sempre stati di supporto al Movimento 5 Stelle e lo saremo anche in futuro. Non nasconde l'amarezza per un movimento che sente ancora casa sua, ma in cui vede a rischio il concetto di partecipazione come la intendeva suo padre. Quella fuori dai palazzi, quella che nel 2018, grazie a Rousseau, nell'arco di un anno, spiega Casaleggio, ha permesso di far discutere migliaia di persone dentro e fuori la rete. I principi sui quali io e mio padre abbiamo costruito questo progetto, che sono principi di partecipazione dal basso, in cui tutte le scelte importanti, che sia la creazione di una lista, piuttosto che le sue alleanze, il programma e tutte le decisioni importanti all'interno del Movimento 5 Stelle, sono basate sugli iscritti. Se questi principi fossero disconosciuti, ovviamente non si parlerebbe di un'evoluzione del Movimento 5 Stelle, ma si tratterebbe della fondazione di un partito nuovo, come ce ne sono stati tanti nella Repubblica. Casaleggio scansa le domande su un eventuale appoggio a quella parte di Movimento presente anche in Parlamento, fedele al vincolo dei due mandati e a figure di spicco ancora legate al pensiero di Gianroberto come Alessandro Di Battista. Specifica che il problema coi parlamentari non è una mera questione di Vildanaro e assicura che Rousseau continuerà come spazio laico e aperto a tutti con un nuovo progetto di autofinanziamento. Speriamo di ospitare domani la replica di Conte a queste parole di Davide Casaleggio. Brevemente vogliamo mostrare la situazione calma in questo momento a Gaza. Andiamo a Gaza, vedete la situazione, c'è anche un po' di movimento per le strade e andiamo, è altrettanto evidente forse ancora di più dallo skyline di Tel Aviv, come nonostante si sentano delle sirene, la situazione sia abbastanza calma. Speriamo. Dopo di noi a 8 e mezzo Lili Gruber ospita Andrea Orlando, Stefano Feltri, Simona Sala e Sergio Abrignani. Poi è mercoledì c'è Atlantide, Andrea Purgatori rievoca per noi uno dei fatti chiave dell'ultimo mezzo secolo. 40 anni fa esatti, domani l'attentato in piazza San Pietro contro Giovanni Paolo II. Ci fermiamo. Infine in breve le borse, Milano ha chiuso con più 0,23%, sta andando male invece New York, Dow Jones meno 1,47%, Nasdaq meno 2,26%. È tutto, Gruber Purgatori, ci vediamo domani sera, buonasera. Grazie.